A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti. Silvana non ti preoccupare assolutamente. Ci siamo. Fatemi sapere se riuscite a sentirci per favore. Vediamo un po' cosa dice la chat. Grande e immancabile. Mi manca ormai. È veramente qualcosa di incredibile. Aspetta che accendo la telecamera giusto per farmi vedere un po'. La gente vuole dare un volto. Devo accendere la telecamera anche io. Ma Gio vedi tu. Vedi tu. Io volevo solo salutare. Mi si vede. Ecco la. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Io sto prendendo una tisana di quelle che danno grinta perché stasera devo tirare fino a mezzanotte perché poi domani sera sono con voi e quando sono con voi so come parto ma non so come arrivo. Venerdì sera sono con voi so come parto ma non so come arrivo e sabato a Bologna c'è un corsettino giusto per rimanere in forma di tre ore e mezzo. Ma Gio mi trovi d'accordo guarda io visto che so che tu bevi la tisanina magari tisanina dimagrante visto che richiamiamo a Bologna Bologna si mangia bene io oggi è la giornata della super dieta. perso due chili e mezzo negli ultimi due mesi sono ecco ora ti stai preparando domani ragazzi saremo perlomeno il team Infinox viaggia verso Bologna e ci prepariamo poi per quello che è il l'evento di venerdì dove ci saranno tantissimi traders tantissimi esperti ci sarai pure te Giovanni quindi chi è dalle parti o comunque chi ha la possibilità insomma è sicuramente il benvenuto Infinox ci sarà. con uno stand quindi se passate venite pure a salutarci che ci facciamo quattro chiacchiere quindi Gio tutto pronto per Bologna ma so che in pentola a casa a casa lapidari bolle anche tante tante altre cose molto interessanti quindi io vorrei vorrei che tu insomma iniziassi a spoilerarci qualcosa e faccio vedere allora vogliono sapere per il tour vogliono sapere per il tour. chiedono del tour mitico Carlo che saluto e lui sa già che la sua mail è lì che la stiamo guardando poi spiegherò. allora io vi dico subito vai con tutti i presenti Genova e Torino e leggo scusate in sovrappressione Genova e Torino il 15 il 16 maggio poi abbiamo Verona e Milano il 29 e il 30 maggio abbiamo Rimini l'ITF il 12 e 13 giugno andiamo a Catania il 28 di giugno anche se questa data penso che verrà slittata al primo al primo di luglio e poi per l'estate diciamo. ci arriviamo Roma no Roma ci siamo sedeto di Roma sarà il 4 ottobre cioè si va dopo con Roma e Milano di nuovo il 27 novembre poi non so ci saranno qualche altro eventino però queste sono date ufficiali di quello che abbiamo adesso. me lo fate un evento lapidari ma questo è tutto lapidari ma uno cioè alla gg proietta la fiorella quattro ore fino a schiantarlo facciamo una votazione ragazzi votate facciamo una votazione chi ha voglia di sentirsi lapidare quattro ore alzi la mano eh sto scherzando l'hanno fatto l'hanno fatto nel 2010 lo sai sono spariti tutti come le cavalli sono spariti no ti dico come fu sono tempi che oggi non si potrebbe tre ore e quarantacinque senza un'interruzione wow erano altri tempi il pubblico il pubblico quattrocento persone quattrocento persone si alzarono in tre per andare in bagno bellissimo una roba incredibile fantastico vabbè vabbè penso che oggi no no non lo posso no non lo puoi più fare è diventato illegale comunque Gio tornando tornando a noi ecco niente abbiamo introdotto un po' di cose soprattutto questa questa Bologna quindi Gio io ti lascio in mano le redini del gioco ti condivido lo schermo così puoi iniziare a far vedere qualcosa di cui si intanto cominciamo a lavorare cominciamo a lavorare dimmi se vedi vediamo 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 tutto quindi hai in mano il todo si io vi seguo eh a mezz'ora a 40 minuti a 45 50 assolutamente 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 buon webinar perché sono brutto non è inutile che mi vediate eh e e partiamo che dici ok buon webinar a tutti buon webinar a tutti ben trovati ciao a tutti ciao a tutti ho staccato la telecamera perché porta via banda passante e siccome non sono all'endelon è perfettamente inutile anche per le gentili signore di eh vedere lapidari che è già abbastanza brutto quando parla figuriamoci a vederlo di nuovo buonasera allora argomenti di oggi eh l'argomento di oggi è il seguente come voi sapete sto eh ultimando la scrittura di un libro che uscirà per l'ITF edizioni o Apple il titolo del libro si chiama trader si diventa è un libro nel quale racconterò le mie esperienze di trading la mia vita da trader perché io credo che noi facciamo un lavoro bellissimo noi voi perché io vi considero tutti colleghi è un lavoro che però influenza pesantemente la nostra vita nel senso buono e quando le cose non sono eh per la quale anche nel senso meno buono perché è una professione estremamente impegnativa porta via tantissime risorse una delle cose che sto approfondendo in questo libro è un capitolo che ho finito di scrivere questi giorni con degli esempi numerici e matematici di cosa significa quando ti metti contro il mercato e forse oggi è il caso lievemente di parlarne perché abbiamo mercati soprattutto azionari brutali direi che la loro definizione è questa ma vorrei farvi anche vedere una bella 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 mi fanno una domanda e se ci sono delle domande particolarmente interessanti risponderò Gianni fermati qua poi rispondo e quindi secondo me il nostro è un lavoro estremamente impegnativo impegnativo perché noi abbiamo a che fare con una clientela difficilissima la clientela non siete voi a cui io potrei vendere dei prodotti segnali operativi abbonamenti formazione assolutamente la clientela a mio parere è il mercato i vari strumenti finanziari che noi abbiamo di fronte che vanno conosciuti in una maniera incredibile vi faccio vedere una roba che sto e queste cose che noi vogliamo conoscere le conosciamo soltanto mettendoci al lavoro e cercando di studiare come funzionano i mercati i quali però sono come delle persone cambiano in continuazione e quindi nel momento in cui i mercati cambiano noi dobbiamo cercare di essere al pezzo e cercare di interpretare nella maniera più corretta possibile e non è facile lo garantisco non è facile i mutamenti i mutamenti del mercato Gianni Manca fa una domanda a tutti quelli che dicono che il trading non è un lavoro a cosa risponderesti vi posso dire la mia esperienza io sono stato un dirigente bancario e poi un promotore finanziario a ad alto livello in realtà sono a basso livello perché ritengo bellissima e poi c'è un'altra domanda metto la telecamera perché io voglio che mi vediate mentre parlo di queste cose è anche giusto poi se non mi vedete non importa vedete la faccia del lapidari chiedo conferma se vedete la faccia del lapidari bene se non la vedete la leviamo ma non ho assolutamente intenzione di di ok perfetto benissimo ci sono due domande a cui merita rispondere la domanda di Gianni Gianni dice a chi dice che il trading non è un lavoro vi racconto la mia esperienza quando io fui obbligato a lasciare la banca bpop carire nella quale ero un dirigente di una rete di promotori finanziari 26 persone tre filiali c'era un grosso lavoro la mia famiglia di provenienza la prese molto male e io mi trovai in difficoltà all'interno dei rapporti familiari perché io passai ad essere una persona che tutti i giorni si vestiva si metteva la cravattina la barbetta prendeva la sua macchinina andava a lavorare coordinava persone brutta brutta ha perfettamente ragione Giuseppe la mia faccia veramente brutta e mi sono trovato dal 2004 2005 a vivere in casa a non vivere più dentro un ufficio a non essere più quello che con un badge entrava dentro una banca parlava con le persone intratteneva clienti andava a fare riunioni mi sono trovato a essere da solo all'interno di una casa dove di schermi non ce n'erano così tanti c'erano due e dove cercavo di rifarmi una vita la mia famiglia vivevamo tutti accanto mi va spesso a trovarmi e io mi ricordo la mia povera mamma che non si dava pace di questo perché nel suo noto pur essendo una persona piuttosto avanti su tante cose per lei nel suo noto suo figlio del quale e lei soffriva molto di quello che era successo perché fu una faccenda molto pesante quello che è successo in Bipop e Carire per lei era un dramma vedere questo figlio in jeans in tutta la ginnastica spesso in pantofole perché questa è la vita nostra che si cercava di rifare una vita una vita che non aveva orari e che era una vita molto difficile tanto infatti che come molti sanno io ho cominciato a fare trading e poi a un certo punto ho dovuto smettere di fare trading mi sono dovuto trovare un lavoro perché il trading non mi dava da mangiare anzi mi stava incidendo sul patrimonio personale grazie alle mie conoscenze quindi io ho fatto una vita estremamente di sacrificio fra il 2005 e il 2007 inizio 2008 perché io facevo due cose in uno quindi lavoravo e poi tornavo e non c'erano orari per diventare lapidari cioè per diventare quello che ha fatto la dashboard che ha fatto tutti i sistemi che vedete io ho pagato un prezzo personale molto pesante ma uno dei prezzi emotivi molto pesanti era quello di far capire la mia famiglia che questo era invece un lavoro lavoro per il quale dietro vedete un po di libri ma ce ne sono che è venuto da me lo sa tantissimi altri in tutta questa stanza ma non era non era facile far capire che era un lavoro perché questo lavoro non avendo orari fa sì che la gente non percepisca che tu stai svolgendo una professione specialmente inizi tu impari questa professione non lo non lo percepisce non se ne dà una ragione è stato molto difficile perché questo è un lavoro che non ha un ruolo poi l'hanno capito ma è brutto dirlo l'hanno capito quando sono arrivati i risultati e sapete quando la mia famiglia l'ha capito l'ha capito quando mi hanno visto andare ai convegni e io partivo con i completi con la giacca la cravatta tornavo con le foto con i filmati e c'è una grandissima difficoltà a dare al trader una patente di credibilità devo essere altrettanto sincero il mondo del trading quando io ho cominciato a fare trading parlo del 2007 2008 poi i primi successi sono arrivati 2008 2009 quando ho conosciuto angelo ciavarella che poi ho ritrovato adesso in infino ma noi siamo stati amici e compagni veramente di grandi cose importanti in active trades e il lavoro l'ambiente si è molto imbruttito si è molto imbruttito e diventa oggi il trading è un posto tolti ovviamente i presenti perché io so e vi conosco ormai tanti per nome per cognome siamo sui social so le persone che siete ma c'è in giro della gente orribile non voglio usare parole perché poi questi webinar vanno eccetera eccetera sapete come la penso però chi mi conosce sa come la penso il primo sfessato che dopo due anni ha studicchiato qualche cosa mette un blog e avete visto che ormai è tutto marketing marketing è quella roba per la quale vi arrivano delle mail incredibili non sai quello che ti stai perdendo mail che sono giocate su un concetto fondamentale del marketing ne parlavamo stamattina con vision forex che è il bisogno di trovare dei nemici come in politica hanno grande successo i politici che trovano dei nemici e questo è sempre stato dalla notte dei tempi da secoli anche nel mondo nostro ha successo quello che si mette contro attirerà tante antipatie ma attirerà la forza emotiva a livello quasi fideistico di tutti quelli che non riescono a trovare un nemico con cui prendersela nella vita e allora vedono nel condottiero che dice seguitemi andremo contro tutte e contro tutti dimostreremo la bontà delle nostre idee perché solo le nostre idee valgono il resto è tutto da buttare al macero ogni riferimento è puramente voluto e tutto questo sta molto imbruttendo il nostro ambiente sono convinto che nella mia in quello che resta della mia famiglia ci sia tuttora un vedere il giovanni lapidari come un soggetto strano perché faccio un lavoro che oggettivamente parlando non è codificato non è codificabile ed è un casino ed è un casino quello che puoi fare è far percepire la dignità del tuo lavoro con un'applicazione onesta che si è sempre qui e alla fine poi le persone lo capiscono mi viene rivolta un'altra domanda non so se l'ho persa forse esatto joe hertha spin spero di pronunciare bene amico mio il tuo nome e il tuo cognome mi chiede se ci sono dei momenti in cui ho pensato di lasciare definitivamente il trading guarda ti dico c'è stato un momento in cui io non guadagnavo dal trading i primi anni sono stati molto duri avevo molta passione molto impegno ma non avevo capito assolutamente nulla di questo lavoro soprattutto non avevo capito la gestione del rischio e venivo da uno stato emotivo dovuto al lavoro precedente qui ci sono molte persone che mi conoscono da tempo ne saluto una in particolare si chiama sergio e venivo da uno stato emotivo di sofferenza per cui mi ero affacciato al mondo del trading e in una maniera sbagliata perché mi ero affacciato con una grande rabbia la rabbia di un uomo che era arrivata ad un grande successo nella sua attività all'età di 45 anni dopo aver lavorato dall'età di 19 nella finanza aver imparato e esperito tante cose a cui era stata tolta per una manovra che poi scritta nel libro di storia della finanza la poltrona era sotto il sedere mi sono trovato dalle stelle alle stalle è stata molto dura devo la mia intelligenza la mia grande voglia di lavorare la mia forza d'animo e alle persone che mi hanno dato fiducia in questa attività io ho avuto delle persone che devo ringraziare molte all'inizio delle attività persone a cui sono di cui sono debitore lo sarò per sempre perché mi hanno veramente dato la fiducia quando non ero nessuno e non sono solo nel mondo del trading queste persone parlo di angelo ciavarella come per esempio di giuseppe di vittorio ma sono anche i clienti primi che mi hanno seguito quando veramente il sito lapidari.it aveva tre abbonati ero soltanto un ragazzo che sapeva fare bene la forchetta di andrews sul dax a 100 tic e tirava su veramente le persone ai convegni perché sentivano che avevo qualche cosa di buono e veramente di onesto da dire però c'è stato un momento in cui io ho dovuto smettere di fare trading di operare e lavorare perché sennò io avrei distrutto il patrimonio di famiglia o comunque l'avrei piano 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 depauperato fortunatamente ho avuto la mia ex moglie che mi è stata lo stesso vicino una bravissima persona e che mi ha detto guarda tientelo come passione come hobby trovati un lavoro che ti dia stabilità noi comunque avevamo una certa stabilità economica e poi siccome io non credo di aver sposato uno stupido e penso che tu sarai una persona che leggendo questi libri tu troverai la quadra della tua vita tre anni dopo sono stato intervistato a ballarò sono nato all'itf e piano piano fatto un certo tipo di strada dalla quale vi informo che io probabilmente tornerò indietro in parte ma di questo ne parleremo ne parleremo anche un'altra volta e cosa voglio dire con questo che c'è stato un momento in cui io non ho pensato di smettere di fare trading ho pensato però di dire al trading fermati un attimo aspettami perché io devo prima sistemare me stesso posso prendere la tisana grazie non ho mai pensato successivamente di abbandonare il trading anche se tante volte mi sono trovato a pensare ma se fossi rimasto al credo italiano nell'87 quando ero funzionario oggi sarei un dirigente probabilmente prepensionato ma conoscivo di qualche centinaia di migliaia di euro ma non ho mai per un momento pensato che mi avrebbe fatto piacere fare quella vita sono fatto per fare un altro tipo di vita più bastarda più indipendente e amo comunque questo lavoro una maniera incredibile anche se pur amandolo non dipendo da questo lavoro perché io amo forse più del trading anche altre cose che sono le persone sostanzialmente parla di trading quello che mi piace molto vedete a livello linguaggio del corpo parlo con il concetto con mente quello che nel trading mi piace tantissimo è il fatto che il trading è sostanzialmente applicazione delle idee che ha dentro meritocratico al massimo ti punisce in uno modo pazzesco ti insegna l'equilibrio e quindi non ho mai pensato di rinunciare a questa parte importantissima del trading che secondo me la cura della mia persona che quello poi che io insegno oltre alle tecniche che conosco io insegno alle persone non farselo mettere in quel posto dai maghi del marketing dai grandi ciarlatani dai truffatori che ci sono in giro alcuni di essi sono anche persone molto famose molto conosciute hanno molto seguito ma non cambia la mia opinione su di loro penso che siano persone che si approfittano della bontà della benevolenza della ricerca di scorciatoie che molte persone che hanno magari perso il denaro perché non hanno avuto la fortuna di nascere intelligenti o portati per il trading o magari hanno avuto altri tipi di esperienze stanno cercando questo non è un lavoro per scorciatoie è un lavoro per secchioni non è un lavoro per persone intelligenti io non credo di essere una persona intelligente credo di essere una persona che ha molta voglia di lavorare ci sono dei momenti come adesso io sto lavorando 80 ore alla settimana circa ciò significa che mi alzo la mattina alle 6 le 6 e mezzo attacco a lavorare finisco di lavorare la sera alle 7 e 7 e mezzo mangio faccio le mie cose e lavoro dalle 9 a mezzanotte perché c'è questo libro da finire e sono rimasto indietro per via di alcuni incidenti uno di lavoro e impegni familiari che sono arrivati tutti insieme che hanno ritardato la scrittura di questa cosa in cui a cui tengo tantissimo se siete d'accordo finirei la parentesi personale e parlerei di altre cose e pertanto sempre se siete d'accordo stacco la mia faccia perché non credo che vi serva di vedere i mercati di oggi innanzitutto come vedete sulla meta trader ho caricato un profilo che non ha molto a che vedere tra un po' pre l'america con le cose di cui mi occupo spesso perché sono materie prime qui c'è il petrolio qui c'è l'oro qui c'è il rame qui c'è il vix la volatilità qui c'è di nuovo di nuovo l'oro e quindi troviamo un'altra materia prima da ammetterci io ci metterei il cacao ok e del cacao facciamo vi faccio vedere un piccolo esperimento come si può mettere il cacao dentro la dashboard la dashboard vi permette di utilizzare gli strumenti che vi pare co coa lo andiamo a scrivere meglio perché va scritto proprio preciso meta trader una cosa pazzesca ci mettiamo cinque minuti di più ragazzi se salviamo questo in un preset dopodiché meta trader ti chiederà strumenti no nuovo ordine no questo no no ci interessa strumenti bellissima farla diretta perché ti parte un tasto strumenti centro storia ti vai a cercare il coco a te lo deve mettere da qualche parte eccolo qua lo refreshi scarichi gli storici si fa così io sono un artigiano ragazzi per cui cioè vi chiedo comprensione eccetera eccetera dopodiché ricarichi la dashboard col preset e c'hai il coco a qui dentro nella dashboard si possono mettere fino a 40 strumenti io c'ho i favorites che sono dax nasdaq dow jones e il weat e poi andiamo a cercare anche il weat e euro stocks sp 500 e l'italia poi c'ho le 10 major del forex e poi c'è una lista di altri tipi di strumenti che sono il il petrolio il vix rame gas oro gasoline e cocoa la cosa simpatica chiaramente come voi sapete meta trader c'ha profili io adesso vado a cercare il profilo future si mette a posto tutto e ci abbiamo la meta trader dove in questo momento la funzione auto trading è disattivata l'attivo per questo mi servirà per far vedere una piccola fighezza che ho fatto a quando voi dite le cose di lavoro chiudiamo questa piccola operazione cina qua close all significa chiudere l'operazione in automatico aperte la macchina close extra chiudere l'operazione che hai aperto da solo lavoro difficile dicevamo lo faccio vedere quanto è difficile questo è il saldo del del mio conto quello su cui che c'è anche poi sul sito e quello su cui sto operando da sei mesi a questa parte perché l'obiettivo di arrivare a un determinato tipo di storico operazioni oggi credo di aver perso 23 euro infatti in famiglia mi dicevano oh la bolsa ha fatto il 4 per cento quanto hai guadagnato oggi magari avevo perso perché mi ero messo in conto tendenza ecco nell'ultima settimana da mercoledì scorso non so se mi è mai capitato questo ho fatto 42 euro un cazzo scusate il francesismo assolutamente niente perché perché io sono un operatore tipicamente di controtendenza ti matti levi se piantarla metta bene il video chiede molte risorse perché quando ti poni in controtendenza chiaramente devi stare attento perché controtendenza significa comprare la debolezza e shortare la paura e shortare la forza e shortare la forza qui è un casino perché per quanto riguarda i mercati è arrivato un segnale pazzesco pazzesco oggi abbiamo su h1 di dax secondo me è un segnale interessante la forza con cui i grandi stanno comprando le shortature le vendite dei piccoli sta arrivando al massimo in cui i grandi investitori i piccoli investitori erano qua è come se sostanzialmente avessimo un pattern di due tipi grandi al minimo seguiti da piccoli al minimo grandi al massimo che seguono piccoli al massimo l'unica cosa è che la volatilità è molto bassa questa è la volatilità è la TR l'ho buttato dentro il sentiment perché mi aiuta stanno per darsi esatto lei dà il bacino a quell'altro e questo dà il bacino a quell'altro l'unica cosa è che questo eccesso se vogliamo chiamarlo così Ettore ha fatto una domanda Ettore Travaglino proprio sull'incrocio di linee questo eccesso però non mi piace tantissimo perché lo vorrei con in questo caso un minimo della volatilità c'è un mercato che sale lento con la volatilità ai minimi che va a raggiungere i minimi di chi è in posizione sbagliata invece la volatilità non è questa è la TR cambiamo gli indicatori ATR modifica colori non ho ancora dall'ATR qualcosa che mi interessa e vi consiglio di mettere sempre una trend line sull'ATR fatta così perché finché l'ATR in questo caso abbiamo un mercato forte non rialza la testa voi non ci cavate le gambe cioè noi voi perché anch'io ho preso degli stop perché ho shortato e mi sono dovuto richiudere è finito di preoccupare tanto rimane registrato e quindi in questo caso finché non superiamo questa trend line non superiamo il 61.8 qui non si va da nessuna parte ed è quello che mi fa pensare che in questo momento le bolse sono fortissime ma probabilmente bisogna proprio che esplodano e quindi finché non c'è questa esplosione io francamente comprare long a questi livelli faccio una grandissima fatica sono un po' in difficoltà però appese come sono qua vedete qui c'è il FIB chiaramente c'è il GAP perché lavora meno ore però vedete che non ci sono santi che tengono anche se vai a vederti un SP500 non c'è storia non c'è storia questo è un mercato che ancora tendenzialmente ha voglia di salire quello che chiedo e che mi augurerei come trader è che questo mercato riesca a continuare a salire sempre diminuendo la volatilità è quello che sto guardando voi dite ma tu da che cosa stai misurando questo così vi faccio vedere dei segnali così vediamo se la domanda che sta facendo Gianni Manca DAX a 12.230 può avere un senso io seguo la volatilità dei mercati e la seguo all'interno di trend dove guardo l'ultima chiusura in rapporto alla posizione dei prezzi su un trend a un anno un mese cinque giorni sei mesi dove oggettivamente parlando vedete che le bolse hanno tutte girato a rialzo perché sono tutte al di sopra dei prezzi che cambierebbero il trend a un mese il 35 giorni 36 mesi cioè anche il DAX è supportato molto bene 11.255 11.618 all'incirca sono 330 punti adesso noi abbiamo per rispondere alla domanda di Gianni Manca 330 punti prima di invertire qualunque tipo di trend moltiplichiamo questi 330 punti dai prezzi attuali 9.13 più 3.30 quanto fa 12.250 devo per forza utilizzare un grafico daily 12.250 cosa trova 12.250 tiriamoci una riga non si sa mai cerchiamo di capire il valore più o meno di questo prezzo punto più punto meno non c'è un minimo massimo particolarmente importanti c'è di ipotizzare che i prezzi stiano lavorando superato il 50 di fibonacci vogliano andare a prendere il 61.8 qui mi aspetterei passato il 12.000 dove probabilmente ci sarà una botta incredibile 68.12.060 qui c'è una zona di minimi daily importanti però 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 bisogna lavorarci per approcci se guardate il grafico daily anche lavorando sul sentiment c'è ancora molto spazio quello che si nota è dove c'è stato il bacino fra i grandi e i piccoli perché questo è il trailing stop del mercato nel momento in cui i prezzi sono risaliti poi hanno avuto un ritracciamento anche piuttosto robusto quando incontrarono da 11.8 e andarono poi a 11.4 la media mobile a 200 giorni ma mentre il ritracciamento dei prezzi è stato robusto molto poco robusto è stato il ritracciamento del sentiment a riprova che questa discesa è stata solo una discesa che ha beccato e io l'ho detto anche con i grafici market profile in altre rubriche eccetera eccetera e forse anche la scorsa settimana ha solo beccato gli stop dei piccoli cioè questa discesa sono stop loss dei piccoli grandi non se la sono cagata di pezza scusate il termine infatti vedete che i volumi non sono aumentati più di tanto mentre i volumi adesso stanno aumentando moltissimo voi dite ma questi sono volumi che lasciano il tempo che trovano anche no perché andiamo a vedere i volumi del mercato ufficiale sul dax e ditemi se vedete la stessa cosa questo è il mercato ufficiale dax va bene dax daily dax daily si chiama ger 30 su infinox posso fare una domanda loro signori dei volumi parlerò sabato a bologna mi farebbe molto piacere che qualcuno di voi venisse a bologna si frugasse 197 euro per venire a sentire un corso di lapidari di tre ore e mezzo forse vi potrebbe aiutare perché a bologna voglio proprio parlare con esempi storici del discorso dei volumi a mio modo di vedere questi sono volumi di oggi chiaramente la giornata non è chiusa siamo a 69 mila contratti siamo alle tre e mezzo del pomeriggio ma vi sembra che i volumi non di oggi ma di vediamo quando le ha fatti queste candela questi di quando sono del 2 aprile primo aprile primo aprile quando era era lunedì mi sembra sono talmente fuso lunedì penso sono talmente fuso che non mi ricordo anche lui lunedì dove il dax ha fatto sta roba qua se stiamo cinque minuti in più collegati vi fa piacere ragazzi che io pensavo di fare svelto oggi però sto parlando di cose che richiedono una certa attenzione ok lunedì guardate l'orribile candela di volumi rispetto agli altri giorni cioè di tutto quello che sta succedendo sell off compreso questa è la candela in assoluto più elevata è la candela del gap rialzista dati cinesi fantastico eppure io questa candela così forte la metto un attimo da una parte non la vedo sui grafici daily è partito un allarme sul dax non c'è la candela forte quella di venerdì 22 come come mai eppure non è una candela in assoluto ampia come questa perché la candela in assoluto più ampia quella dell'undici ottobre questa questa robaccia qua qua sotto e da lì poi siamo scesi cos'è sta storia vi faccio una domanda alcuni di voi sono clienti infinox come me altri no secondo voi ci sono più soldi sui mercati ufficiali ci sono più soldi sui conti dei broker ma non di infinox dei broker in generale ve lo dico io ci sono più soldi sui mercati ufficiali i piccoli comprono in cfd i soldi sono sui mercati ufficiali quindi questa candela di forti volumi lasciata stare che sia verde perché le colorano questa è una candela di stop presi dai ribassisti andiamo infatti a vedere nella scomposizione cosa è successo il giorno 1 aprile h1 i volumi forti sono qua cioè quando il mercato apre in gap stringo un poco apre in voglio cancellare qualunque oggetto grafico perché mi dà fastidio mercato apre in gap si ferma poi arriva questa candela che non è neanche tanto elevata questa qua chiude sopra la chiusura dove c'era stato il ritracciamento e fa partire questa bombata qua questi sono tutti i stop presi dai piccoli e ve lo dice che sono stop presi dai piccoli non tanto è lapidare i sentiment realmente collaudato questo indicatore che ma proprio che sale relativamente poco quando molto invece scende questo e queste sono quindi tutte le chiusure obbligate però noi siamo molto pervicaci noi siamo presi ci stoppiamo ricompriamo ci stoppiamo ricompriamo è tutto un fare lo stiamo facendo noi il mercato il sentiment sale lento noi scendiamo di brutto a picco è molto più drammatico il posizionamento molto più drammatico al diare il fatto che siamo arrivati abbastanza veramente tirati di brutto e questo la dice lunga sul fatto che questa salita è una salita che ha volumi forti rilevanti quantunque in calo perché ormai anche i piccoli si sono un po svegliati la strage sta diminuendo ma in realtà la problematica è che finché noi continueremo noi piccoli a dare foraggiatura al mercato oggettivamente parlando il mercato non scende e qui e qui interviene la non l'abilità il senso logico del trader sono quattro giorni che per l'iper venduto che c'è ho un sistema che mi dà segnali di ribasso ma fortunatamente questo sistema mi dice ribasso sotto un certo prezzo e io finché non vedo i prezzi scusate il bisticcio le parole andare sotto quel prezzo io shortare non shorto se il sistema mi dice lapidari possibile stop loss sotto 10.811 e io vado a vedere oggi cosa succede a 811 e io ci vado la notte quando dormo ma la mattina non ci vado tenendo presente che a me della notte frega fino a un certo punto perché i volumi sulla notte veramente c'è ragazzi lasciate stare la notte serve solo per guardare i prezzi prezzi della notte sono importanti comunque c'è c'è un lavoro ma se il mercato mi ritorna già la notte dopo aver fatto un po di caccia agli stop e essere ritornato sul prezzo di chiusura sui prezzi e mi supera alle tre le quattro del mattino si dice questa notizia dei cinesi eccetera eccetera hanno fatto l'accordo con mercato ma finché il mercato mi sta stabilmente sopra soprattutto sopra la linea rossa quindi linea rossa di breve su linea blu di lungo sopra cioè questo mercato che non scende minimamente avrebbe avuto un senso se il mercato avesse fatto una figura di questo tipo queste sono le figure che dobbiamo andare a cercare 12 parte questa un'estensione forte qua mi vai a cazzeggiare mi rompi questo livello allora mi hai fatto uno in realtà due fatto così mi stai un po a giocare allora mi scendi e allora io ti tiro una trend line in questo modo parallela all'inclinazione di questa riga qui sotto la cosa mi può interessare qui sotto la cosa mi può interessare così no così il mercato va seguito sì il mercato c'è un affare c'è solo un una cosa da fare con la dashboard come avete visto ho comprato adesso una piccola quantità posso settare le quantità per fare le operazioni in automatico cioè cliccando qui sopra up e down se poi voglio bombare di più allora me le faccio in un'altra maniera vado qui dentro e mi faccio i miei ordini ma quello è un altro tipo di ragionamento vado a prendere questo me lo sposto qua e ci faccio quello che mi pare ok perché finché il mercato sta qua questo mercato che vuole tirare ancora e se vuole tirare ancora è difficile che scenda perché questo mercato tira ancora e qui ho bisogno di aiutarmi con i mercati ufficiali perché perché c'è sta roba qua scusate oggi io per esempio vedevo ribassi sul bu sul bund possibili stop loss sotto 165 84 btp sotto 129 02 t bond sotto 147 78 vi faccio vedere perché i mercati da quattro giorni stanno salendo ciao agli arrivati vincenzo e fi eccetera eccetera mo ve faccio vedere prendiamo il bund tanto arriva anche su infinox e tra poco li sto talmente stressando che questo è un indicatore che sto facendo con un programmatore qui si scende cambiamo i periodi del sentimento tariamolo un pochino più a lungo bund e short da 166 04 oggi l'avevo short da 165 84 e short dice btp regge ancora decorosamente ma comunque è in una attenti sul fibra ragazzi ecco vi do da un segnale di attenzione sul fuzzi mi perché questa configurazione del btp non mi piace molto e se scende a livelli così tirati tira giù anche la nostra borsa prendete il trentennale t bond americano 28 marzo il t bond era impiccatissimo c'era stato il ritracciamento delle borse supporto sul t bond zona di volumi 147 e 5 ma c'è una cosa che nessuno di voi pochi conoscono questo è il titolo tedesco a 30 anni l'equivalente del t bond ok non abbiamo molto storico non te lo trovo lo storico eccolo qua guarda come lo stanno mollando la cosa curiosa però qual è ed ecco perché dovete stare un po' attenti sulle borse la cosa curiosa è che questo titolo sta rompendo la forchetta di andrews ma sta scendendo molto ma non scende molto il sentiment ciò sta a significare che se questi titoli di stato soprattutto quelli lunghi arrivassero su un livello sul quale io intanto per non saperne leggere scrivere tanto te li conservano quanto vuoi di me mi ci metto un allarme arrivassero su questa zona lo dico sinceramente io ho sciolto le borse e mi compro titoli di stato vediamo se la cosa può avere anche un senso vista così misuriamo l'integrazione del canale o quantomeno se mi suona un allarme io delle riflessioni gliele vado a fare la prima delle quali cambio il discorso e metto un allarme qui sotto e questo è il discorso fondamentale le borse salgono perché c'è il denaro regalato perché l'accordo con i cinesi di trump probabilmente potrebbe sostenere i mercati dell'estremo oriente nella loro ripresa data anche da numeri dell'economia cinese buoni non so quanto taroccati e questo aiuta anche a tenere le materie prime alte questo si chiama ilario chiede come si chiama quel prodotto con lo strumento si chiama ve lo scrivo per tutti b u x l ho scritto si chiama buxl roba orribile una roba orribile che scambia 42 mila contratti neanche pochi certo non scambia come il bund il bund oggi sta facendo 620 mila pezzi quindi per quanto riguarda le borse qui c'è una forte resistenza di prezzo sull'h1 del dax ma a mio parere questa è un'operazione che io personalmente terrò quindi sui mercati abbiamo visto delle cose una cosa fondamentale sui mercati da osservare da controllare è l'andamento della volatilità io la vedo con i segnali del mio sito e per quanto riguarda io divido poi i prezzi in tre fasce fascia rialzista fascia media fascia ribassista se non si scende sotto 11.830 di dax sull'ufficiale siamo a 11.930 quindi 100 punti sotto quindi se non si scende sotto il cash sotto 11.810 gran prezzone l'810 sull'indice non si sa da nessuna parte si ne parlavamo proprio con con massimo vita esatto volatilità stiamo scendendo siamo sotto l'1 e 25 per cento del prezzo se i mercati saliranno ancora e la volatilità del dax mi andrà intorno all'1 per cento del prezzo quindi questo momento potrebbe andare intorno ai 120 punti giornalieri secondo me si configura un setup di una certa attenzione perché perché sto aspettando un setup di questo tipo la volatilità di breve che mi vada sotto la volatilità di lungo già ci stiamo andando già la 5 giorni è inferiore alla 13 e alla 20 ma voglio che sostanzialmente si vadano vadano in cascata cioè la 20 fate conto deve avere una volatilità 11 la 10 deve avere una volatilità 9 e la 5 deve avere una volatilità 7 le voglio tutte e tre in sequenza minoritaria allora mi sa mi partirà un sistema dove mi dirà attenzione ciccia ciccia sull'euro stocks comincia a esserci un po di segnali di tensione sto guardando questi segnali anche sul forex perché sto cercando di capire euro gbp e sterlina dollaro se hanno intenzione di fare un'inversione di trend e se per esempio lavorando sui parti di volatilità ci sono delle sedute direzionali sto elaborando un nuovo sistema andiamola a vedere su australia dollaro quindi andiamo sulla piattaforma del forex audi usd oggi il sistema mi dava seduta direzionale per australia nuova zelanda dollaro andiamo a vedere nuova zelanda dollaro che stiamo messi che è una valuta debole attenzione c'è stata comunque una decorosa direzionalità anche se la direzionalità maggiore in questo momento la sta vendendo australia perché i dati macro di australia sono più belli di quelli di nuova zelanda questo è un cambio che adesso un po tirato in una fase lateralizzante però su australia dollaro può meritare se siete long di stare in posizione con trailing stop a 0,70 80 questo è come la vedo quello su cui sto sostanzialmente lavorando molto è l'analisi della volatilità perché credo che sull'analisi della volatilità ci sarà da vedere delle cose questo è il sistema previdenziale scusate previdenziale col cavolo previsionale dove vedete che c'era un po di debolezza o forza eccessiva sul dax ma possibilità di rimbalzo ancora per sp 500 fuzzi mi una certa resistenza in area per sp ma il continuazione del rialzo sopra 2867 sono prezzi future future sta a 2880 continuazione di rialzo per il nasdaq sopra 7516 e aumento di forza delle ricoperture sopra 7538 in questo momento nasdaq future sta a 7570 e lo stesso anche per un indice debole che russell che in questo momento sta a 1572 che partiva long oggi da 553 e ancora con più forza da 559 mentre vedete che sull'obbligazionario avevo la possibilità di avere delle inversioni sto facendo delle statistiche su questo trading system le presenteremo ai conveni di infinox per adesso siamo a 71 per cento di affidabilità lo modificheremo lo sto lavorando anche per il forex per il forex rialzo sopra 1.12 di euro dollaro attenzione però a 1.11.93 124.69 per euro yen rialzo ribasso rimbalzo sopra 124.81 euro yen per esempio sta salendo bene andiamo a vedere euro yen insieme è un cambio che mi piace euro yen e questo è ancora forte c'è un po di ritracciamento ha fatto 125.41 che è un livello abbastanza elevato di euro yen io metto anche i target eccesso rialzista 125.40 massimo di oggi 125.41 dollaro yen arriviamo subito arriviamo subito quindi mi chiede scarlo quindi tradi inversione del trend della volatilità più che l'eccesso di volatilità no trado anche l'eccesso però mi interessa trovare l'eccesso sia quando è sparato sia quando è troppo compresso è più facile chiaramente tradare gli eccessi di volatilità quando è alta che quando è bassa perché quando è bassa la volatilità è noiosa tende a persistere euro yen vedete collegando questi massimi qui c'era un segnale di stop dollaro yen vediamo cosa ci diceva oggi dollaro yen dollaro yen dava rialzo sopra 111.32 è partito un allarme non so dove c'era una compressione di volatilità c'era anche molta compressione di volatilità nelle ultime tre sedute per quanto riguarda euro contro yen andiamo a dire dollaro contro yen 111.35 era il setup niente di che niente di che ci aveva una resistenza 111.46 no perché perché il dollaro oggi non è particolarmente forte sinceramente infatti se vado a vedere dollar index ce l'avevo da qualche parte non so dove l'ho messo andiamo a cercare qua profili ce l'ho qui dollar index dove stai l'abbiamo perso lo ritroviamo con un po di pazienza si ritrova tutto questo è il petrolio short sp500 beh non vedrei per adesso il mercato short sp500 eccolo qua vedete che oggi da ieri abbiamo avuto un po di debolezza di dollaro perché chiaramente l'accordo trump con i cinesi prevede comunque che qui in questo caso attenzione che a 96.75 quindi qui c'è un dollaro debole dati macro abbastanza negativi mi state facendo notare uno short su sp500 andiamola a vedere sul Dow Jones brutto Dow Jones è quello che i dati macro li sente più di tutti vediamo se è il caso di aprire uno short al primo breakout di una candela oraria non sarebbe il caso di anche perché DAX vedete è cazzutissimo scusate il termine dati macro Giorgio ci ricorda che sono usciti negativi sono le 4 ISM non manufacturing gli ISM più basso abbastanza sostanzialmente più basso vediamo il Dow Jones come l'ha recepito siamo andati un po' fuori tempo spero non vi sia non vi stiate annoiando non vi sia dispiaciuto vedo che più o meno siete ancora tutti qua mmm quando si staccano queste candelacce così non sono bellissime da vedere diamola un minuto diciamolo proprio pazzesco no a un minuto 2367 andiamo a vedere 2668 allora la candela ultima bella pazzesca Dow Jones sto andando a prendere il Dow Jones ragazzi lo guardiamo anche sui mercati ufficiali questo è il Dow sui mercati ufficiali 15 minuti qui ce l'abbiamo a un minuto lo postiamo a un minuto anche di qua ok crollo rimbalzo sentiment giù ne abbiamo comprato un cincinino 0.30 ci sta che scenda ci sta che scenda però su questi eccessi un rimbalzo lo potrebbe fare se scende il Dow Jones 26166 andiamo a vedere dove lo possiamo ricomprare 177 siamo a 2667 ecco sta abbandonando 132 minimo di ieri 126 25 lo compriamo 30 punti sotto 40 punti sotto e se no non lo mediamo perché lo aspettiamo 80 punti sotto più basso Dow Jones quindi c'è un buco di prezzi andiamo sull'E H1 torniamo a vederlo così una stecca qui una stecca qui sotto 1 2 3 scarto di volatilità da qui a qui 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 l'America oggi può probabilmente anche scendere bene perfetto ci facciamo una bella remata e andiamo a configurare sotto fighissimo ci sarebbe quasi un 61,8 abbastanza chiamato dai ora senza volerlo proprio fare preciso su questa zona qua la 25,950 in caso di questo genere non si deve andare a mediare ma si deve andare a fare un altro tipo di ragionamento che espongo anche nel libro dove nel libro c'è uno schema in Excel che lavorando sulla volatilità fa vedere le opportunità o meno di mediare di queste cose ne parlo a Bologna al corso che terremo sabato pomeriggio dalle 3 e mezzo alle 6 e mezzo in cui si parlerà di queste cose atteggiamento degli istituzionali eccetera 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 qui se non parte la volatilità può fare un rimbalzo perché la volatilità è molto bassa se si guarda il pattern H1 è un pattern short però la mia ipotesi è che possa provare dopo il dato a fare un rimbalzo se non fa un rimbalzo 0.30 di Dow Jones significa prendere un contratto che vale ci sto per avere un'idea quanto vale il Dow Jones vale 110.000 110 per 0.30 110 è 5 euro a punto future 110 diviso 5 vale 22 diviso 3 abbiamo impegnato 7.000 euro su 37.000 euro che è il saldo di questo conto quindi l'operazione è sufficientemente conservativa chissà se le bolse ritracciano un po' se non ci sono altre domande io credo oggi ci siamo detti un po' di cose chiamerei quindi l'amico Davide Calabrese che appare che appare che appare bene lo chiamate eccolo qua eccolo qua quindi Joe che cos'hai raccontato oggi di bello qua alle persone sono tutti contenti vedo grazie ho fatto una carrabbata ho raccontato la cosa della mia vita così gli haters su youtube su facebook mi prenderanno per le meno intanto questo rimbalzino lo chiudiamo e lo lasciamo ma non per i 2 euro o 20 euro non ce ne frega niente ho raccontato un po' della mia vita perché mi hanno chiesto se ho mai pensato di smettere col trading e allora che domandona sulla domandona mi è venuto un ragionamento romantico dai però ci siamo fermati molto bene se volete conoscere di più su Giovanni ragazzi venite tutti a Bologna che vi aspettiamo lì in ogni caso Joe chiudiamo questo webinar che si è prolungato si è prolungato mercoledì prossimo non ci sono quindi mercoledì prossimo su un ritiro spirituale per il libro quindi sparisco dal mondo se non veramente per gli abbonati dando il minimo sindacale del servizio quindi ci rivediamo fra due settimane oggi è il 3 3, 7, 10 e 17 perfetto allora io auguro una buona settimana un buon trading a tutti e vi aspettiamo tutti a Bologna grazie Giovanni grazie a voi ragazzi alla prossima buona serata a tutti arrivederci